Ciao a tutti ragazzi, sono qui per parlarvi dei fuochi d'artificio, una categoria dei fuochi d'artificio. Molte città italiane, come ogni anno, non lo so perché, come molte città italiane, stanno vietando i fuochi d'artificio e petarli a capodanno. Non so perché, perché è la loro scelta. Io che sto di Napoli, a Napoli invece, al momento non è manata nessuna ordinaria, poi bisogna vedere più tardi. Però in tutto questo, vi do una piccola guida all'acquisto sui fuochi d'artificio. Vi do la piccola guida all'acquisto. Fuochi d'artificio, guida all'acquisto. Si dividono in categorie diverse. Tra cui ne sono sei, precisamente. Anzi, otto, precisamente. Cioè, la categoria F1, F2, F3, F4, P1, P2, T1 e T2. Però, quelle che voglio più specificare, da specificare meglio, invece, sono le categorie F. Della categoria F4, da specificare meglio. Allora, cominciamo dalla categoria F1. Della categoria F1 si trattano di fuochi d'artificio di rischio basso, da poterli accenderli anche dall'interno di edifici. Per esempio, anche dall'interno delle vostre case, per esempio, tipo, quelli lì che si possano accendere, i fuochi d'artificio che si possano accendere, dei fuochi d'artificio che si possono accendere tranquillamente all'interno delle proprie case, tipo, per esempio, per Tardiflash, Pop Pop, quelle che voglio valiste, le filanti, delle stelline magiche, roba varia, no? Quelle cose piccoline, le cose lì, spara coriandoli, botticelle, spara coriandoli, pistolette, spara coriandoli, queste cose qua, quelli che sono, tranquillamente, da poterli accendere, tipo, stelle filanti, va, specificiamo tra stelle filanti e spara coriandoli, dei fuochi che sono articoli di fuochi d'artificio da poterli accendere anche all'interno delle proprie case. E inoltre, la vendita di questi articoli qua è vietata ai minori di 14 anni. Passiamo, invece, alla categoria F2. La categoria F2 si trattano di fuochi d'artificio, fuochi d'artificio di rischio basso, da poterli accenderli dall'esterno di edifici. Quelli di categoria F2 si trattano di alcune batterie di tubi da lancio, quella che ho comprato, quella che ho comprato, le due batterie da 100 colpi, le due batterie di tubi da lancio da 100 colpi che ho comprato io, sono in regola, entrano tutti e due nella categoria F2, sono di rischio basso, quindi entrano, quelle batterie che ho, entrano tutte e due nella categoria F2. Poi si trattano pure di alcuni razzi, con roba varia, si trattano pure di alcuni razzi, alcune fontane, cose varie. Che inoltre, questa qui, questi qua, della categoria F2, la vendita è riservata ai maggiori di 18 anni, con obbligo di esibire, con obbligo di documenti di riconoscimento. Sulla categoria F2, non è obbligatorio il posto d'armi o nulla ossa da questura, ma semplicemente è obbligatorio portarsi semplicemente un documento di riconoscimento. Di conseguenza, basta pure semplicemente una carta d'identità. Quelli della categoria F2, ripeto ancora una volta, non è obbligatorio, non occorre il posto d'armi. Ora invece passiamo a a quelli della categoria F3. Quelli della categoria F3 sono fuochi d'artificio di rischio medio da poterli accenderli dall'esterno di edifici e negli spazi all'aperto molto ampi quindi lontani dalle quindi proprio nei luoghi isolati lontani da edifici e cose varie. Si trattano varie batterie delle batterie di tubi di lancio come ce l'ho io però queste qui potenzialmente più pericolose quindi di categoria moderatamente pericolose di categoria F3 quindi inoltre in tutto questo per tutti i fuochi di artificio di categoria F3 la vendita è riservata ai maggiori di 18 anni e non solo la vendita è riservata ai minori di 18 anni ma è obbligatorio anche avere con sé è obbligatorio anche il porto d'armi oppure un nulla ossa dalla questura perché questi sono di rischio i fuochi di artificio della categoria F3 sono di rischio intermedio quindi per averli bisogna avere la libera vendita riservata ai maggiori di 18 anni e con obbligo di porto d'armi o nulla ossa dalla questura passiamo invece ai fuochi di artificio di categoria F4 di F4 i fuochi di artificio di categoria F4 si trattano di fuochi di artificio di rischio elevato il loro utilizzo è destinato solo ad artificieri professionali solo ad artificieri professionali e certificati dal prefetto da effettuare previo esame davanti ad una commissione tecnica costituita allo scopo questi prodotti sono altamente pericolosi e inoltre in tutto questo la loro vendita è assolutamente vietata al pubblico quindi se sta scritto che la loro vendita la loro vendita i fuochi di artificio della categoria F4 la loro vendita è tassativamente vietata al pubblico questo vuol dire che nessuno li può avere se è tassativamente vietata al pubblico nessuno li può possedere ripeto li può possedere solo artificieri professionali e certificati dal prefetto quindi devono avere ulteriori non solo devono avere il posto d'armi nulla osta da questura il patentino di fuochino ma l'interessato deve esibire un esame per poterli vendere e la vendita questi sono potenzialmente sono altamente pericolosi che sono fuochi di artificio di rischio molto elevato e quindi utilizzati dal pub da tutti quanti può succedere che questo può rischiare praticamente di bruciare arbine e cose varie quindi di conseguenza di conseguenza i fuochi d'artificio della categoria inoltre in tutte le categorie è ovviamente obbligatorio esibire i documenti di riconoscimento che si tratta di una cartellina in titola allora per le prime due categorie il posto d'armi o il nulla ossa della questura non è obbligatorio però cambia che la vendita è la vendita che su quelli di categoria F1 è vietata ai minori di 14 anni mentre quelli di F2 è vietata ai minori di 18 anni quindi per quelli per quelli della categoria F1 li puoi avere se hai almeno 14 anni quelli di categoria F2 devi essere proprio maggiorenne mentre invece nelle ultime due categorie quelli della categoria F3 non solo devi essere maggiorenne ma è anche obbligatorio avere con sé il porto d'armi è obbligatorio fare anche il porto d'armi avere anche ripeto per le ultime due categorie per la F3 non solo è vietata bisogna essere maggiorenni ma inoltre è obbligatorio esibire il porto d'armi o nulla osta dalla questura mentre invece quelli della categoria F4 è vietata al pubblico quindi nessuno li può avere li possono avere solamente vi ripeto artifici solamente ai artificieri professionali e certificati dal prefetto che hanno effettuato previ esame davanti ad una commissione tecnica costituita allo scopo quindi di conseguenza questo ve lo ricordo per poter festeggiare capodanno quando comprare dei fuochi di artificio per capodanno festeggiare al sicuro dovete rendervi praticamente per la categoria di capodanno per festeggiare capodanno in modo sicuro anche con i fuochi di artificio questa è la guida ecco tutto inoltre inoltre ci sono pure vari dipieti in alcune città i fuochi di artificio a capodanno si possono accendere tranquillamente mentre in alcune città no perché hanno imposto il divieto quindi se c'è il divieto va rispettato per esempio a Roma per esempio a Roma proprio nella capitale dell'Italia sono vietati i fuochi di artificio a capodanno ma questi a Roma sono vietati da sempre a Milano invece quest'anno non ci sarà nessuna ordinanza dove vieta i fuochi di artificio da qui nessun divieto e nessune sanzioni a Bari invece vietati i fuochi di artificio e in Vessino a Bari vietata anche la vendita di tali anche vietata la vendita di fuochi di artificio di tutte categorie fatta eccezione ai professionisti degli eventi a Venezia dopo due anni di covid il sindaco della città di Venezia dopo due anni di covid ha riconsentito i fuochi di artificio a Capodanno e quindi a Venezia ritornerà ritorneranno i fuochi di artificio dopo due anni di pandemia a Bologna invece vietati a Palermo a Palermo per esempio non c'è nulla da parlarne perché da parlarne perché non si sa evidentemente di Palermo che è il capoluogo della Sicilia mi sembra che non ci sta nessuna ordinanza ma non si sa niente della città di Palermo mentre per la città di Napoli a Napoli ovviamente come ogni anno c'è l'operazione Natale Sicuro quindi pertanto lo scorso anno a Napoli il sindaco li vietò lo scorso anno ma quest'anno penso che si possano ma quest'anno penso che li avrà riconsentiti anche perché anche perché gli eventi che si faranno la festa in piazza che si farà domani all'ultimo dell'anno ci saranno ovviamente i fuochi di artificio quindi di conseguenza siccome ci sono i fuochi di artificio alla festa in piazza che si farà domani sera a Napoli per festeggiare l'anno che verrà che è una trasmissione che fa ogni 31 dicembre sul Re 1 quindi di conseguenza a Napoli si può ritornare a accendere i fuochi di artificio con con prudenza di conseguenza a Napoli tutto qui perché ovviamente a Napoli dove abito io è la loro tradizione accendere i fuochi di artificio e poi molti ragazzi a Napoli a Capodanno sono stati persino denunciati perché perché nei loro video sui social hanno festeggiato Capodanno hanno festeggiato il Capodanno in modo abusivo che non solo hanno acceso i fuochi di artificio ma si sono divertiti anche a sparare con delle pistole a salve quindi ragazzi si può festeggiare il Capodanno con la pistola a salve si il Capodanno con la pistola a salve si può festeggiare però con prudenza quindi seguite anche il canale di Anthony Mauriel quello che recensisce armi e pistole a salve lui vi dà se lo vedete lui vi dà i consigli giusti da fare a Capodanno con una pistola a salve guardando i suoi video perché con la pistola a salve è proprio perché i napoletani hanno festeggiato con la pistola a salve il Capodanno perché sono stati denunciati molti ragazzi napoletani molti ragazzi napoletani i loro video sono diventati virali perché si sono divertiti a festeggiare nella loro tradizione di Capodanno con la pistola a salve ed è un po' rischioso perché la pistola a salve vabbè che è innocua però alcuni si possono spaventare possono segnalare alle autorità perché si possono pensare che hai in mano una pistola vera di conseguenza non è una cosa proprio non è proprio una cosa che si possa fare festeggiare a Capodanno con una pistola a salve e stessa cosa anche con i petardi della categoria P1 che non si potrebbero utilizzare per poter per poterli accendere a Capodanno per per lo scopo ludico ma bensì i petardi della categoria P1 possono essere benissimamente utilizzati per caccia per allontanare gli animali selvatici queste cose qua tra le istruzioni che sarà pure scritto bene ragazzi io questo video finisce qui noi ci vediamo al prossimo ciao ragazzi grazie a tutti Grazie.